dal martedì al venerdì, siamo qui per parole con voi. Questa è una settimana un po' particolare perché mercoledì, ve l'ho già ricordato, chi ci segue lo sa, non siamo riusciti a fare il collegamento, per cui il collegamento con Rosa Terruzzi lo recuperiamo domani. Quindi questa settimana non finisce con oggi, ma finisce in realtà domani perché dobbiamo recuperare l'incontro di mercoledì. Però oggi siamo qui con un ospite che ci fa particolarmente piacere perché non è solo un amico della biblioteca, ma è anche un utente della biblioteca di Desenzano, ve lo presento, ed è Fausto, dovrebbe arrivare. Ecco qui, Fausto Ghirardini. Buongiorno a tutti. Buongiorno, Fausto, grazie di averci regalato questo tempo. Cominciamo da qui, Fausto. L'hashtag di questi giorni è io resto a casa, lo ricordiamo ogni giorno. Per chi fa teatro, e il teatro è un incontro con le persone, altrimenti non esiste teatro. Cosa significano questi giorni? Beh, l'hai detto, il teatro è contatto, è dal vivo, è essere in carne ed ossa, per cui è una sofferenza un po'. Ci si arrabatta, ci si inventa un po' di cose in streaming, inventando qua e là, però insomma, secondo me sono dei surrogati. leggevo un articolo di Andrea Porchedu, che rifletteva appunto su questo fare, fare, fare. Lui diceva, non ci agitiamo troppo, lasciamo che ci sia una decantazione e aspettiamo che i tempi siano maturi, non per ritornare come prima, perché quel come prima ha procurato tutto questo, ma per essere un pochettino diversi. Per cui, sì, è un momento di riflessione, si spera che questo serva, per essere diversi dopo, anche ritornando, pur ritornando al contatto, anzi, con la voglia di ritornare al contatto, che è la ragione vera di quest'unica arte che poi fa incontrare corpi, sguardi, sussurri, voci che si incrociano, musiche, in questo momento di scambio fra il palcoscenico e la platea. Per cui siamo qui. Ecco, intanto siamo qui, ci ritagliamo questo piccolo spazio per continuare comunque in qualche modo un dialogo con chi segue la nostra pagina. Fausto Ghirardini è l'anima, il direttore artistico, diciamo è la definizione formale, ma insomma che ben conosce viandanze e teatro sa che lui è l'anima vera, l'anima vera di viandanze e teatro. Insieme naturalmente ai miei collaboratori, Diego Belli, Mattia Grazioli, che mi supportano tantissimo e che sono la nuova leva, che io spero di andare. Io lo so, però se dico che tu sei l'anima, sia Diego Belli che Mattia saranno credo d'accordo con me. Volevo partire da questo, uno degli eventi di marzo a cui la biblioteca ha dovuto rinunciare è stato l'incontro con viandanze e teatro. Tu dovevi raccontarci cosa in quella serata, in quel reading che purtroppo abbiamo tentato anche di fare in streaming, però c'è stata poi la stretta ancora più forte, e quindi abbiamo insieme, e questo è stato anche un bel momento di riflessione condivisa, Fausto, insieme scelto di tacere quella sera. Sì, è stato proprio quel giorno, eravamo prontissimi, vogliosi di fare questa cosa qui, ma abbiamo riflettuto insieme a te se era opportuno farlo. Fausto, spostati un po' perché ti impala il mio riquadro. Dall'altra parte, Fausto, ci facciamo anche queste annotazioni in diretta. Se era opportuno farlo, abbiamo scelto di essere coerenti con le indicazioni e di rimandare il tutto a tempi migliori. Spero quest'estate, lì sulla terrazza della biblioteca, se non sbaglio. Lì noi l'avremo programmato, non lo so se riusciremo, ma insomma non appena possibile, Pilla Duratti è lì pronta ad ospitare questo reading. Raccontaci. Noi eravamo pronti con il Marco Valdo, con le stagioni in città, divertentissimo, con delle musiche molto evocative, belle, in tre, attrezzatissimi. Lo faremo, lo faremo, Giorgio. Ma sono certo, e sono certo che sarà una festa, perché sarà un ritorno alle cose che in questo momento ci sono negate, opportunamente vorremmo dire negate, evidentemente. Fare teatro vuol dire, diciamo così, regalare una... No, 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 parto da un'altra cosa, da un'altra cosa perché volevo chiederti questo. Tu usi la letteratura, hai appena citato Marco Valdo, poi chi frequenta la biblioteca, ma chi frequenta le tue cose, sai che molti dei tuoi lavori attingono a piene mani alla letteratura. La porti in scena usando la voce, usando il corpo, usando lo spazio che il teatro mette a disposizione. Allora, quando è che un testo, Fausto, per te, per la tua sensibilità, per la tua storia, è così interessante da essere trasportato poi in qualche modo in scena? Dico in qualche modo, qualche volta sono teatri veri, qualche volta sono sale magari anche piccole, come quella di Villa Brunati. Ma guarda, il criterio è che ci sia una buona drammaturgia e un tessuto narrativo forte, solido, in cui la storia sia piena di conflitti. E quando parlo di conflitto, almeno per noi di teatro, non si dà teatro senza conflitto. E quando si parla di conflitto si parla di azioni, di azioni contrapposte che generano vita, generano interesse. Da un punto di vista letterario, per me appoggiarmi a un testo solido, in cui credo è fondamentale, perché senza una buona base è difficile poi costruire, anche da un punto di vista così specificatamente a trattare qualcosa di buono. Io non essendo purtroppo un autore, per forza di cose, ho dovuto appoggiarmi, soprattutto nel mio lavoro con la scuola, con le scuole superiori, a testi importanti. Ad esempio, per farti un esempio, con il liceo Calini quest'anno lavoriamo su un testo di Dylan Thomas, ma ad esempio con il liceo Arnaldo lavoriamo sull'Asino d'Oro di Apuleio, che non è un testo teatrale, è un testo letterario, che abbiamo dovuto in qualche modo adattare al teatro. E lì il lavoro si fa interessante, perché è proprio una traduzione, più che un tradimento, anche se un po' di tradimento c'è sempre, in qualsiasi traduzione. Anche nel momento in cui leggi ad alta voce un testo, c'è una specie di meccanismo di possesso, di impossessarsi, di far nostro quello che utilizziamo, e in qualche modo tradirlo, perché evidentemente lo facciamo nostro nel momento in cui scegliamo alcune cose rispetto ad altre. Per cui è molto importante, sì, tornando alla tua domanda, il fatto di avere un buon tessuto narrativo, una bella storia da poter tradurre in teatro. Ecco, la traduzione in teatro è sempre interessante da un punto di vista della metodologia, della diversità del linguaggio. devi scartare molte cose, tenere l'essenziale, sapere che il corpo in scena dice, oltre a quello che dice da un punto di vista della parola, dice anche da un punto di vista del corpo, per cui tenere l'essenziale. non è sempre facile, però è una delle cose che mi entusiasma di più. Avere un buon testo e accompagnare il mio tempo di lavoro con me stesso come traduttore di linguaggio e poi portarlo ai ragazzi. L'altra soddisfazione è che, come dire, prendi qualche cosa dentro a delle pagine piane, su una situazione bidimensionale, e lo fai tridimensionale, lo porti in uno spazio, in un tempo condensato, come può essere uno spettacolo teatrale, in un'ora e mezza, due, ma lo fai vivere attraverso un altro linguaggio. Una bellissima cosa che ti posso dire di questa esperienza, non fatta da me direttamente, però è l'operazione che ha fatto Fausto Cabra col CTB che ha portato in scena la storia di Elsa Morante. Un romanzo che io ho amato tantissimo, un po' lo invidio, Fausto Cabra, ma ha fatto un'operazione molto, 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 molto bella e molto interessante dal punto di vista del scambio, no? Della letteratura che diventa teatro. E che letteratura, Fausto, perché la storia di Elsa Morante è forse davvero uno dei grandi romanzi del novecento italiano, ma questi poi sono giudizi che ognuno di noi... Parliamo un attimo del leggere, Fausto, perché poi tu sei sempre ospite dei nostri reading. Allora ti chiedo questo, proviamo a metterci per un istante dalla parte di chi ascolta la tua lettura, perché io trovo sempre affascinante il fatto che noi ascoltiamo un testo che già conosciamo, molti dei testi che tu ci hai proposto erano testi, diciamo, il vecchio il mare di Hemingway, già un'altra volta hai lavorato su Calvino in biblioteca. L'Osservatorio Palomar. Sì, certo. Quindi McEwan con Il bambino invisibile, insomma, di lavori su... di autori, diciamo, non sconosciuti, eppure riascoltarli, letti da qualcun altro, crea una magia nuova. Che valore aggiunto ha una lettura, anche una sola lettura a voce alta, vista dal punto di vista, diciamo, di chi la può ascoltare? Che valore aggiunto può avere? Ma ci sono parecchie cose. Poi c'è una lettura a voce alta fatta bene, Fausto, perché poi ci sono le letture che tolgono. Ecco, no, abbiamo per scontato noi. Vabbè, noi, voglio dire, facciamo quello che possiamo, da questo punto di vista, non è che... Però ci proviamo con la passione e il rispetto che si deve a un testo, anche a mettersi... Non so, tutto a destra, Fausto. Sì, anche rispetto a un testo che che scegliamo, se lo scegliamo è proprio perché ne abbiamo ne abbiamo stima e l'investimento che facciamo ci rende ancora più responsabili. Allora, la lettura ad altavoce è una... Come dire, già in sé è un... è in nuce un piccolo teatro. C'è comunque un corpo al centro della scena che emette questo che io chiamo metallo sonoro. Poi il meccanismo della lettura ad altavoce è che comunque è presente il libro, che diventa uno dei riferimenti. Gli occhi dell'attore guardano queste piccole formichine scritte sul libro, queste parole, queste parole entrano nei suoi occhi, passano nel suo corpo e riescono, fuoriescono attraverso questa spinta del diaframma, questo tubo sonoro che esce, con quello che io chiamo metallo sonoro. C'è il respiro, c'è la pausa, c'è lo sguardo e tutto questo arricchisce. È chiaro che quello che tu vedi e che senti è denso e pregno anche del rapporto che quel corpo che ti sta parlando ha con la materia letteraria che fa nascere tutta una serie di sensazioni, di visioni che poi messe assieme diventano quando funziona, quando è possibile, quando funziona diventano anche emozioni e questa condivisione di questa cosa che sta accadendo in quel momento che forse a volte fa scattare quello che tu chiami un po' la magia, no? E che la magia del teatro era del qui ed ora, sta accadendo adesso, insomma. Sì, sì, e domani sarà comunque diverso, anche se lo ripetiamo, no? Sì, anche se lo ripetiamo sarà diverso. Sergio ci scrive il teatro rispetto al libro guarda più alla sostanza. Credo che sia d'accordo con te quando dici il teatro va a cogliere il senso profondo, intimo di un testo letterale. Sì, sì, lo leggevo anch'io adesso, sì. Di più la sostanza è la sintesi, sì, devi sintetizzare, devi cercare la parola giusta, togliere le altre, anche se, voglio dire, la tua è una scelta, è sempre una scelta individuale, soggettiva. Altri che lavorano magari sullo stesso testo possono evidentemente fare altre scelte. Però sì, bisogna badare un po' la sintesi alla sostanza, a una sostanza che guarda un po' sotto sotto la superficie. Parliamo del fare il teatro. Hai citato un paio di volte la tua attività di formatore delle scuole. Se tu dovessi diciamo spendere una parola per dire perché può farci bene provare a fare del teatro, che non volerà dire poi diventare degli attori, no? fare teatro è comunque una disciplina, è comunque una pratica. Sia dei ragazzi in formazione, tu lavori molto con gli adolescenti perché lavori molto diciamo con le scuole superiori, ma anche se dovessimo parlare con persone più adulte, più uso un'espressione che mi piace anche poco, tra virgolette formate, perché fare del teatro? Provare a mettersi in gioco con il teatro può far bene? Sì, ecco, può far bene, non è mica detto che lo faccia sempre. A volte fa anche un po' male, nel senso che nel momento in cui ti trovi di fronte a questo che è la messa in gioco di te stesso come immagine, come corporeità, come sguardo, come tua carne, ti trovi a dover affrontare una serie di come dire, di ostacoli da superare, che sono quelli più banali, non parlo di grandi cose, noi siamo quello che ci rimandano gli altri, gli altri ci permettono di essere, noi esistiamo perché qualcun altro ci guarda e ci dà testimonianza del nostro essere lì e questo evidentemente passa attraverso una serie di come dire, di immagini che hai di te stesso che passano attraverso il giudizio dagli altri, per cui la paura, la timidezza, il senso della prestazione, cioè sono tutti ostacoli che devi superare e nessuno ti insegna a superarli, noi operatori teatrali, noi pedagoghi teatrali possiamo solo accompagnare ed aiutare ma neanche facilitare perché alla fine devi essere tu a conoscerti e a trovare il modo di funzionare al meglio per rendere efficace quello che stai raccontando. Alla fine poi ti aiuta il fatto che è semplicemente un gioco. Io ad esempio ho rivisto e consigliamo anche al mio compagno di lavoro Diego Belli di rivedersi una intervista del 98 adesso mi sfugge il nome a quell'attore a Mastroianni che raccontava il suo lavoro in una maniera molto semplice molto umile come un gioco lui era avulso da scuole di teatro lui è arrivato al cinema e al teatro attraverso come dire un'esperienza dilettantesca poi lo videro a Roma e riuscì a cominciare a lavorare a Cinecittà ma lo racconta davvero come una cosa molto molto semplice questo gioco questo mettersi nei panni degli altri e giocare semplicemente a godersi questa possibilità comunque sì il fascino sta anche nella disciplina che devi mettere per cercare di capire come funzioni e è uno specchio impietoso un meccanismo impietoso perché perché passa tutto il corpo che è lì non mente le parole forse a volte possono in qualche modo essere un po' intriganti ma quello che ti ti passa ti fa passare uno sguardo un gesto è lì di fronte a tutti Angela dice che siamo in uno spazio non spazio in questo momento così complesso la prendo questa espressione perché l'ho trovata molto molto bella è una dice la nostra zattera di legno necessaria per sapere dove fissare ma forse c'è qualcosa che non riesco a leggere la ringrazio Angela per queste parole molto belle poi Sergio torna a dirci che di pedagoghi teatrali ne servirebbero tanti in questo momento quindi insomma evidentemente una le cose che stai raccontando incontrano anche le esigenze di tante persone però Fausto Ghirardini non è arrivato a essere attore noi lo vediamo attore ma da dove arriva Fausto Ghirardini raccontaci brevemente perché poi abbiamo ancora un paio di cose di cui parlare la tua storia teatrale so che faccio una domanda non si può rispondere troppo brevemente non ho una formazione accademica io ho cominciato a fare teatro nella scuola superiore con gli studenti quando allora evidentemente c'era voglia di cambiare il mondo era il 68 69 e facevo teatro per rivendicare la possibilità di dire qualche cosa e è stato lo strumento teatro che inizialmente mi serviva proprio per dire come insieme agli altri evidentemente per dire come la pensavamo rispetto al mondo rispetto alla vita rispetto a tutto quanto piano piano questo linguaggio ha cominciato a interessarmi a rivelarmi la sua straordinaria potenzialità e è diventato uno strumento di conoscenza di studio di e poi ho fatto un po' di esperienze all'estero in Francia ho fatto una serie di seminari di scuole qua e là però ecco non ho fatto una specifica scuola di teatro ci ho lavorato parecchio come dicevo all'estero a Roma per qualche anno facendo dei seminari un corso di aggiornamento su giovani attori europei con un grande regista dell'actor studio di New York attraverso una serie di esperienze dopodiché ho cominciato a lavorare in teatro e la gavetta è stata la scuola fondamentale che mi ha formato per anni ho fatto l'attore di giro senza troppe fortune e questo come dire mi ha fatto riflettere su prendere come dire di altre decisioni per cui ho lasciato quella carriera quella piccola carriera di attore di giro e ho cominciato a interessarmi anche all'aspetto pedagogico alla formazione a Roma sono stato un paio d'anni in questo corso di formazione per giovani attori europei ne sono tornato più consapevole del mestiere e della sua funzione e piano piano ho cominciato a costruirmi anche un aspetto di carattere formativo poi nel 2000 qui a Desenzano ho fondato Viandanse tra l'altro con alcuni giovani studenti del liceo Bagatta di Desenzano e Viandanse ormai da 20 anni che opera sul territorio produce spettacoli lavora con le scuole superiori abbiamo adesso un bel gruppo di lavoro tra vicende alterne siamo contenti seppure in questo periodo evidentemente ci nega un po' la possibilità di lavorare di quello che abbiamo fatto apriremo fra un po' un bel teatrino lì nella zona industriale di di Lonato del Garda e proseguiamo ad avere il nostro rapporto col territorio con la gente Fausto è bello ascoltarti perché la sensazione che il teatro sia un gioco ma è tutt'altro che un'improvvisazione quindi per fare del teatro serve preparazione impegno quindi insomma metodo anche poi l'improvvisazione teatrale frutto sempre di grande lavoro però il tempo stringe abbiamo dobbiamo fare due cose ancora la prima chiediamo a Fausto come a tutti di consigliarci per questi giorni un libro da prendere in mano in questi giorni oppure da prendere in mano non appena librerie e biblioteche nel nostro caso riapriranno le porte sì allora sì mi ha lasciato solo Giorgio credo per il consiglio del libro allora Ian McEwan è una vecchia conoscenza che conosciamo per lo straordinario l'inventore dei sogni che abbiamo usato anche per le nostre letture che ci accompagna sempre e ci diverte sempre molto a leggere ultimamente in questo periodo di rifugiati mi è capitato di leggere questo Macchine come me di Ian McEwan che mi ha portato via come al solito è una bella storia molto contemporanea è una specie di periodo futuribile il 1998 però ribaltato in un futuro possibile in cui questo giovane intellettuale riceve una un'eredità e al posto di comprarsi una villa si compra un robot un un androide di nome Adam che ha l'intelligenza artificiale questa intelligenza artificiale è molto simile a un uomo e con lui instabilisce un rapporto tra l'altro anche con la fidanzata che sfocia anche in una specie di di gelosia e è molto intrigante il libro molto intrigante perché come dire incrocia l'intelligenza dell'uomo e la percezione delle sensazioni con il suo essere creatore di quest'altra di quest'altra entità che lui sa essere un robot ma che comincia attraverso l'intelligenza artificiale a esprimere sensazioni emozioni e a diventare consapevole per cui c'è questa specularità che è molto che è molto intrigante è la lettura che più di altri in questo periodo mi ha accompagnato allora grazie Fausto anche di questo consiglio ma non abbiamo ancora abbiamo ancora finito oggi abbiamo anche un'altra un'altra sorpresa rubo ancora un istante per ricordare che noi ci troviamo anche domani alle 17 e 30 come dicevo all'inizio con Rosa Teruzzi e mostro già gli appuntamenti della prossima settimana che sono martedì con Andrea Pennacchi forse più conosciuto come Poiana in questo momento mercoledì Michela Marzani Giovedì Tersite Rossi collettivo di scrittura e venerdì Davide Conati autore diciamo particolarmente attento al mondo al mondo dei ragazzi adesso togliamo la locandina fra un po' io lascio completamente lo spazio a Fausto Ghirardini che chiuderà autonomamente questa questa diretta leggendoci lo presenterà lui quindi io do appuntamento a domani lascio a Fausto Ghirardini chiudere queste parole con voi con una lettura grazie Fausto e arrivederci a tutti grazie Giorgio allora dunque cosa ho scelto? l'amico l'amico Dylan Thomas il il vecchio Dylan che ha scritto questo Under the Milkwood su cui sto lavorando con il liceo Calini in questo periodo per produrre un podcast è un testo scritto sotto forma di radiodramma e è molto molto evocativo e spero possa essere efficace anche in questa mia lettura sotto il bosco di latte è primavera notte senza luna nella cittadina senza stelle silenziose le strade acciotolate mentre il bosco degli amanti e dei conigli arranca invisibile verso il mare nero come le sorbe pigro e nero nero come il corvo della notte e traballante di barche da pesca le case sono cieche cieche come talpe o cieche come capitano un gatto laggiù presso il vecchio porticciolo con la statua della santa che guarda il centro felpato della città tutti gli abitanti della città silenziosa e cullata dal mare dormono ora i bambini dormono dormono i fattori e le fattrici i pescatori e i pesci i bottegai e i pensionati dormono dorme il ciabattino il maestro e la maestra l'ost e il postino delle poste l'impresario delle pompe funebri e la prostituta il beone la sarte il pretigatore il vigilo urbano la venditrice di calze da donne in sottoveste il carbonaio e il lattaio le giovani cassiere il vecchio cameriere e tutte quante le belle e morbide donne mogli spose amanti e consorti dormono le giovani ragazze sprofondano emollemente nei letti o scivolano in sogno sognando lucciole per damigelle lungo le navate del bosco che intona nuziali concerti d'organo a due piazze i giovani vibranti fanno sogni peccaminosi e sognano sognano gli armenti tumultuosi della notte e il mare il mare solcato da vele gonfie e turgide di vento e poi dormono i cavalli nei campi le mucche nelle stalle e i cani nei cortili i gatti i gatti sonnecchiano o strisciano cauti e insinuanti sull'unica nube dei tetti si sente la rugiada che cade sugli alberi delle barca del porto e si sente il respiro della città silenziosa e soltanto i vostri occhi ora soltanto i vostri occhi ora sono dischiusi per vedere la piccola città che si arrotola pigra nel sonno soltanto voi credetemi soltanto voi udite l'invisibile cadere delle stelle il moto più che mai oscuro innanzi l'alba minutamente sfiorato di rugiada del mare colmo di sogliole e rombi dove il chiurlo la lodola il vagabondo e il gabbiano rileggiano sgambi ascoltate è la notte questa la notte che si muove nelle strade è il vento che scivola liturgico e musicale in via dell'annunciata ed è l'erba che cresce sul colla del corno ed è il cadere della rugiada il cadere delle stelle e il sonno degli uccelli nel bosco di latte guardate guardate la notte d'acqua giù al faro che sale all'osteria del porto e diventa birra da quattro soldi al mezzo litro la notte tranquilla come un cappuccio da frate si disperde nell'aria come farina nera nella forneria di pandoggi è quella notte che sonnecchia tra la bambagia dei lattanti e guardate è la notte muta e regale che trascorre il suo tempo che attraversa la piazza conventi che sfiorano il pelo dell'acqua che saltella come una nera capretta davanti alla chiesa della dormiente città è il tempo che passa ascoltate è il tempo che passa ma fatevi più vicino ora fatevi più vicino voi soltanto potete udire le case che dormono sulle strade nella notte bendata pigra e profonda voi soltanto potete vedere nelle camere cieche vedere i pettini e le sottane sulle sedie le brocche e i catini e le dentiere dentro i bicchieri vedere le cucine economiche ancora tiepide il comandamento alla parete e i ritratti dei morti che vanno ingiallendo voi soltanto potete vedere e sentire dietro agli occhi dei dormienti i moti e i paesi i labirinti e gli sgomenti gli arcobaleni e le melodie i desideri il volo la caduta la disperazione e i mari tempesta dei loro sogni da dove voi siete potete potete udire e vedere i loro sogni potete vedere Capitan Gatto il capitano di mare cieco e a riposo mezzo addormentato sotto la statua della nostra santa che sogna sogna che ondate non certo come quelle che invasero i ponti della sua sirenetta lo risucchiano come viscide meduse negli abissi salati delle tombe marine dove gli annegati dei tempi lontani levano il muso verso di lui ascoltatemi ancora dal luogo in cui siete potete sentire in questa notte senza luna di primavera la signora Vaniglia sarda e pasticcera in vicolo dell'osteria sognare sognare il suo innamorato dalle cosce poderose e dalla voce ardente basso profondo come il tuono e dai capezzoli duri come conchiglie che ti fruga sino ai precordi con occhi simili a fiamme e scava a fondo il suo solitario corpo innamorato ora guardate guardate dietro agli occhi e dietro ai segreti dei sognatori guardate i bocconcini delicati e i sottinsù le esche i bottoni la forfora le unghie tagliate la saliva i fiocchi di neve le conchiglie e le spine di pesce il grasso di balena il chiaro di luna e i pesciolini salati scodellati dal mare invisibile in via del somaro così felpata di sonno polli bella gamba e messer guadrante sospirano prima dell'alba imminente e sognano lei polli bella gamba sogna tanti bambini tanti bambini 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 lui messer quadrante invece non sogna nulla niente di nulla nulla di niente soltanto il suo il suo tic e toc del tempo che passa e ora ascoltate un gufo sorvola le mura pulite del castello e vola verso il nido di una cappella scavata dentro un albero il tempo passa e l'alba sale piano piano e adesso fermatevi fermatevi su questa collina è il colla del corno antico come tutte le montagne alto freddo e verde da questo piccolo cerchio di pietre potete vedere tutta la città sottostante che dorme nella prima luce dell'alba laggiù a molti cortili di distanza un cane abbaia nel sonno la città si increspa come un lago nella nebbiolina che si risveglia il principato del cielo si illumina ora sopra il nostro verde colle in un mattino di primavera sonoro di canti di allodole di galli e di squilli di campane chi tira la corda della campana del municipio se non Gatto il capitano cieco e ad uno ad uno i dormienti vengono riscossi dal sonno a suon di campana Capitan Gatto annuncia la giornata di oggi come la sua stentoria campana che intona l'uscite uscite uscite dal letto uscite 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 dal letto il reverendo Elia nella sua casa ai piedi del colle esce brancolando dal letto in tonaca nera da predicatore si pettina all'indietro i capelli bianchi da bardo dimentica di lavarsi scende le scale a piedi nudi apre la porta di strada si ferma sulla soglia e recita la sua preghiera del mattino oh mia cara terra lo so lo so che ci sono città più celebrate della nostra e più bei colli e di più alta cima e radure più ricche di bei fiori e più liete d'uccelli variopinti e poeti più dolci ch'io non sia a ludare il fulgore del mattino ma accanto al colle del corno re del tempo il nostro capo eirone non è altro che una piccola scheggia di pietra sparsa d'alghe dove i gabbiani vanno per stare soli questo bosco di latte è un cespuglietto accanto al bosco d'oro di grongar ma datemi la scelta e finch'io viva mi piacerà anche dopo che io sia morto divagare tra i nostri alberi e andare lungo la strada a fianco delle dune dove da mattina a sera il mare canta e mai lasciare la mia terra mai mai e poi mai il reverendo Elia chiude la porta di strada il suo uffizio del mattino è terminato così come è terminata questa chiacchierata questa lettura questa chiacchierata di una mezz'oretta con voi vi ringrazio dell'ascolto ringrazio Giorgio Pienazzi della biblioteca di di Desenzano per questi momenti passati insieme anche se virtualmente e vi do appuntamento a quest'estate quando speriamo tutti insieme sulla terrazza della biblioteca di Desenzano a Villa Brunati sulla terrazza con Vista Lago io Diego Belli e Mattia Grazioli vi racconteremo le stagioni in città del Marco Valdo di Calvino grazie a tutti da risentirci di Calvino di Calvino di Calvino vicode traства di Calvino di Calvino e di Calvino